Riuscirò a fare un video senza sbagliare niente, il microfono è attaccato quindi dovremmo esserci. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, se ancora non ci conosciamo, piacere, io sono Shanti, altrimenti bentornati! Non badate a questo look un po' Lady Oscar, che in realtà ci può anche stare, ho appena fatto i boccoli e li sto facendo raffreddare, ma alla fine li shakeriamo insieme. Mi sono resa conto che io non so dove filmare in questa casa, non è ancora completa, però a prescindere non ho pensato a un punto carino per i video e quindi devo capire come fare. Nel mentre vi presento la mia nuova bellissima lampada, non riesco a spostarla perché è attaccata, ma è molto bella. Qual è il menù di oggi? Allora, io ho portato qua tutte le mie cosine per fare la skincare, visto che stamattina non l'ho ancora fatta. Vi ho chiesto di lasciarmi su Instagram delle domande, sono arrivate un sacco di cose, ieri le ho selezionate e sono, che dire, tante. Quindi ecco, questo non sarà un video breve, prendetevi qualcosa da bere, degli snack, io intanto proteggo questi miei poveri capelli appena fatti. A proposito di snack, io ho anche qua qualcosa da mangiare perché dovrò nutrirmi in qualche modo, non mi rimane tanto, come potete vedere. Sto girando che è martedì, ho fatto questi brownies domenica. Ovviamente non l'ho mangiato tutto io perché probabilmente non sarei su questo divano e sarei in bagno. Ma era la prima volta nella mia vita che facevo i brownies e è tipo uno dei miei dolci preferiti in assoluto. Ed è una droga. Ho usato il preparato per brownies di coro e è stato facilissimo per me che sono imbedita, in particolare con i dolci, non è che sono molto talentosa. E in realtà è stato molto facile perché basta unire appunto il preparato a latte vegetale, burro, margarina, se volete le uova, altrimenti no. Io non sapevo come fare a far sciogliere il burro perché odio fare le cose a bagnomaria, quindi l'ho messo al sole. Ha funzionato non male in realtà. Ecco, per una persona che non sa fare le cose come la sottoscritta è stato molto facile ed è venuto molto buono. Ed è stato apprezzato da tutte le persone a cui poi l'ho donato perché appunto non potevo mangiarlo tutto da sola ed è buonissimo. Quindi questo è quello che mangerò durante questo video. Se volete provare anche voi questi deliziosi brownies o volete prendere qualsiasi altra cosa sul sito di coro, vi ricordo il mio codice sconto che è Shanti e vi lascio il link nell'info box. Non c'è niente che io abbia preso da loro di cui io mi sia pentita, veramente una delle collaborazioni che mi dà più gioia di sempre. Bene, allora cominciamo con le domande e con la skincare, se no non prendiamo più. Dove ho messo il telefono? Qua. Devo prendere una nuova cover in Giappone. Zoom anche un po' che vi voglio più vicini. Ultimamente la mia pelle tra l'altro è peggiorata un sacco, non so quanto si veda. Io di solito non ho mai brufoli, ero piena. Mi vedo proprio male, spenta, non lo so, e quindi devo rimettermi dietro seriamente. Io sono molto regolare con la skincare della sera ma non faccio quasi mai quella la mattina. E spero che appunto una volta smaltito lo stress del trasloco e aver ripreso delle mie buone abitudini, la mia pelle torni in forma, poverina. C'è l'ambulanza. Ciao ragazzi, mi angoscia sempre l'ambulanza. Allora, dicevo, siete molto carini, mi avete chiesto in molti come sto, se mi sento più tranquilla, a livello personale e lavorativo. A livello lavorativo sicuramente sì, perché forse avete visto, sono ricominciate tutte le mie collaborazioni, sono molto contenta, sto facendo fatica a postare perché con tutto il caos che c'è ancora in casa sento questa sensazione di irrisolto che non mi permette di fermarmi, essere creativa, pensare alle cose che voglio creare. Faccio molta fatica a fare entrambe le cose, però piano piano appunto le cose si stanno sbloccando, adesso finisco di sistemare, vado in Giappone e poi tornerò a fare le cose come voglio io, spero. Intanto comincio con questo micro peel di SVR, ehi, è anche in palette con questo video di oggi, che è tipo un'acqua con neacidamide e acido lattobionico. Comunque sì, la mettete su un cotoncino, questo qua sono quelli riutilizzabili di Sloggy e aiuta a preparare la pelle, a lisciarla, mi devendo dire, comunque con la neacidamide. Vabbè, ma SVR è uno dei miei brand di skincare preferiti in assoluto, non c'è niente che ho di loro e che non mi piaccia. Andate sul sicuro. Dicevo, dai, va meglio, alti e bassi, mi sento molto incasinata, ho tantissime cose a cui pensare, però rispetto a prima che le mie preoccupazioni erano soltanto angosce e non anche cose belle, diciamo, è bello avere la preoccupazione di non sapere che tappeto scegliere, piuttosto di sapere se avrà voglia di alzarmi il giorno dopo. Quindi le preoccupazioni sono migliorate, ovviamente non è l'unica cosa che mi preoccupa, ma sto pensando molto ai tappeti ultimamente. Sto, ok, sto così così, dipende dalle giornate, attendo con ansia il Giappone, e quella sarà una bella botta di vita. Poi così, a bomba, ti metteresti mai con un follower, uno o una follower? Non si sa mai, ma tendenzialmente mi viene da dirti di no. Intanto tonico... Anche sul microfono? Hai bisogno di idratazione, piccolino? Questo qua è di Elemis, è un tonico idratante al ginseng. Lo adoro tantissimo, piangerò quando finirà. Ovviamente si parla di un rapporto che parte non alla pari, perché tendenzialmente una persona che mi segue sa molte cose di me e io no, e quindi c'è un po' un dislivello che a volte si sente e a volte no dal vivo, per esperienza personale, non sempre. Quindi nei casi dove non sento questo, forse un po' di fangirlitudine, se non la sento forse ci si può approcciare più da essere umano a essere umano, a prescindere dal resto, però secondo me rimane questa cosa un po' sballata. E poi devo essere onesta, è già capitato in passato che avessi delle interazioni, beh mi viene in mente una persona in particolare, ma le volte che delle mie follower si sono infilate nella mia vita sentimentale non è andata a finire bene. Quindi sicuramente non sono molto positiva al momento a riguardo. Cosa ti piace di più della nuova casa? Oh mio Dio, mi piace molto la mia cucina, ma forse perché è l'unico posto che è tipo, sta venendo carino, lo sto decorando e mi piace come sta venendo, e c'è una bellissima luce al mattino. Oggi è grigio, quindi non posso farvela vedere, però sì, è un posto che mi dà gioia. Il resto è ancora abbastanza incasinato, ma sono fiduciosa. Consigli, suggestioni, emozioni, post rottura, sono a pezzi nonostante la terapia. Guarda il mio video, ci ho fatto un video intero, secondo me è anche tanto accettare il fatto che è ok essere a pezzi dopo una rottura. Qualcosa si è rotto, è normale che ci siano dei pezzi da raccogliere. Io mi guardo attorno ed è pieno di pezzi che sono ancora giù. Bisogna darsi la grazia e il tempo e la comprensione di dire è ok, sono ancora rotta, sono ancora a pezzi, non mi sono ancora ricomposta. E va bene così, fa parte del processo. Informarsi sull'arte del kintsugi, si chiama, giusto? L'arte giapponese di riparare le cose rotte con l'oro. Ovviamente quando qualcosa si rompe non tornerà più esattamente come prima, ma non significa che non possa essere comunque bello. Quindi io penso che tu debba trovare quella cola dorata che può rimettere insieme i pezzi. E quella è diversa per tutti. Sono anche poi arrivate varie domande sull'esiti delle mie valutazioni sulla neurodivergenza. Qua mi chiedono, ti va di condividere l'esito del test per le neurodivergenze e l'esperienza in generale? Intanto mettiamo del siero. Questo è un nuovo arrivato di Filorga, il Time Filler Shot. È un siero correttore di rughe d'espressione. È da mettere sera e mattina. E io lo metto nei punti dove le mie espressioni, le mie rughe d'espressione si vedono di più. Quindi la fronte, qua, e poi qui, qui, e questa qua sono quelle che voglio di più. Ma perché faccio troppe facce? Allora, in realtà è tuttora in corso. Ho visto questo psichiatra per la valutazione dell'autismo, dove abbiamo fatto un po' un'esplorazione della mia vita in generale. Andrò tra un paio di settimane a fare i test ufficiali con un'altra persona. E in realtà tra due giorni ho l'appuntamento per la valutazione del disturbo dell'attenzione. E quindi anche lì non so poi quanto ci vorrà per avere delle risposte certe, però stiamo giungendo a qualcosa. E poi, non so se vi ricordate, che avevo anche contattato un centro in Italia. Mi hanno dato appuntamento tra un anno. Cioè, era un anno quando gli avevo scritto. Quindi, vabbè, sarà inizio dell'anno prossimo comunque. E quindi non so se manterrò comunque quell'appuntamento. Mi piace l'idea di avere un secondo parere, a prescindere. Però sì, ovviamente appena avrò risposta ci farò un video. Ah, qualcuno mi chiedeva se mi andava di truccarmi in video. Solo che oggi devo andare a fare delle foto e mi truccheranno lì. E quindi è per quello che soccino la skincare invece di truccarmi. Grazie per la comprensione, ma se mi piace l'idea che io mi trucchi di più in video, lo faccio volentieri. Al di là del fatto che mollarsi fa schifo, preferisci vivere in casa da sola o in compagnia di un inquilino? Da sola tutta la vita. Poi intanto mettiamo un po' di vitamina C. Secondo me il fatto che è tanto che non metto la vitamina C mi ha fatto spennere la pelle. La vitamina C è un ingrediente, secondo me, molto importante. Questo qua è di SVR ed è una delle mie preferite. No, vabbè, io ovviamente, lo sapete, se mi seguite, io adoro stare da sola, vivere da sola. Ho avuto pessime esperienze con i conquilini in passato, quindi sono molto restia al vivere con qualcuno in generale. Un conto è vivere con il proprio partner, la propria partner, ma altrimenti è una cosa che, se no, eviterò come la peste. Entro il limite delle possibilità. Ovviamente a volte non si ha altra scelta e ci sta, fa parte, sono esperienze che mi hanno cresciuta. Però, ecco, potendo scegliere, i gatti sono i miei conquilini ideali. Tranne quando mi svegliono alle 4 di notte e ultimamente succede un po' troppo spesso. Questa domanda mi aveva colpito. Come si può dipendere meno dal cellulare quando sei in casa, secondo te? Ho scelto questa domanda perché ultimamente mi sembro di essere super scrollante. Sono sempre a guardare i reel e a perdere tempo in questa maniera. Mi rendo conto di quanto tempo e quanta energia mentale mi ruba questa cosa. È veramente una perta di tempo. A volte io me la giustifico con, ma mi sto studiando il mercato? Sto cercando idee di contenuti? No. E intanto procediamo con il contorno occhi, anche questo DSVR, l'ampolla refresh. Tutte le loro ampolle sono fantastiche, le adoro. Io stavo pensando di reintrodurre una regola che mi ero data tempo fa e aveva funzionato molto bene. Che è no telefono dalle 9 di sera alle 9 di mattina. Poi ovviamente dipende tanto uno quando si sveglia, quando va a dormire. Però era una cosa che mi aiutava tanto perché prendere il telefono appena svegli è proprio un modo terribile di iniziare la giornata. E poi ti setta la tua baseline di dopamina in maniera pessima perché poi la continui a rincorrere per il resto della giornata. Quindi è un pessimo modo di iniziare la giornata. E ovviamente gli schermi prima di dormire non aiutano ad addormentarsi rapidamente e nel migliore dei modi. Leggevo molto di più quando usavo questa regola quindi potrebbe essere un punto di partenza anche per te e per tutti i nostri telespettatori che hanno questo problema. Io mi dimentico sempre di mettere le cose anche sul collo. Poi crema. A proposito di brand preferiti, Dermalogica è uno dei miei brand preferiti in assoluto. Anche nel loro caso non c'è prodotto loro che io non abbia amato. Questa è una crema che è abbastanza leggera per il giorno e ci sta. È la Fito Nature Oxygen Cream con ingredienti fitoattivi idratanti e ossigenanti. Mi piace molto. Poi sì, in generale cercare di creare degli ostacoli tra te e il telefono. Quindi metterli in un'altra stanza, metterli in un cassetto in un'altra stanza. Sono tutte cose che possono aiutare ma capisco che è difficile. Devi lavorare siccome tanto sulla consapevolezza sul momento di che cosa sto evitando, perché lo sto evitando, che sensazione negativa sto cercando di evitare con lo scrolling. Ma potremmo farci un video intero e delicato, guarda. Ah, qualcuno mi chiedeva anche di riprendere con i senza maschera, che era questo mio format, dove parlavamo di tematiche più o meno tabù facendo delle maschere. Assolutamente, mi piace l'idea. Ah, poi anche farai un house tour quando la casa sarà completa. Varie domande sulla casa. Ho un dubbio. Aiutatemi a decidere che cosa fare. Io, appunto, tra tre settimane parto per il Giappone. Io spero ora di tre settimane che la casa, il grosso, sarà fatto. Sto aspettando le risposte per il mobile tv e devo decidere questa chesso di cosa dei tappeti. Però ecco, per il resto siamo a buon punto. Poi devo anche appendere le cose sui muri, però insomma siamo addirittura d'arrivo. Quindi mi chiedevo, faccio una parment tour quando è tutto più o meno sistemato, anche se sarà... Non dico la stessa casa di prima, perché ci sono delle cose diverse rispetto a prima. Però ho l'impressione che una casa diventa veramente casa quando le dai un po' di tempo. Piano piano si aggiungono delle cosine qui e là che la rendono più tua. Perché all'inizio si metti tutte le cose base, però è un po' impostato, no? E quindi di solito per quello le altre volte in passato aspettavo tanto tempo a fare una parment tour perché volevo che fosse più vissuta, più completa. Quindi non so se fare appunto una parment tour più avanti quando sarà tutto più mio oppure farmi già uno adesso con la casa per com'è adesso e poi eventualmente fare un altro più in là quando la casa sarà aggiornata. Anche perché ad esempio io ho una grande terrazza, non è sicuramente un progetto a cui mi posso dedicare adesso e questo verrà fatta più avanti, decorata più avanti. Quindi non lo so, ditemi voi come vogliamo procedere. Cosa pensi delle app di dating? Penso che dobbiamo mettere tutti la crema solare e lo dico anche a me perché non la metto mai. Questa mi piace molto. Mi è stata inviata da Sol Mafia, una delle sue box di skin care e infatti è un brand coreano, si chiama Skin & Lab High Barrier Fresh Sun Lotion 50+. Fantastica, ma in generale c'è le creme solari asiatiche sono next level. Io faccio così, faccio una riga sul dito e faccio più perché so che non si mette mai abbastanza crema solare. Comunque non ho una grandissima esperienza di app di dating. Quello che ho notato è che non mi facevano sentire molto bene. Ovviamente c'è un primo approccio molto superficiale quando magari, secondo me, quando vedi una persona dal vivo, la senti parlare, la vedi muoversi, ti può attrarre in maniere che magari, sai, se l'avessi vista soltanto in foto non gli avresti dato due lire. E quindi, secondo me, c'è un po' questo limite. E poi appunto, sì, mi facevo sentire un po' un pezzo di carne e le persone con delle buone intenzioni non sono molte. Però appunto, ribadisco, la mia esperienza è limitata, sono pronta a cambiare idea, ma non adesso. Quindi ne riparliamo più avanti. Sarebbe veramente divertente iniziare una serie dove racconto i miei date, ma devo avere voglia di fare i date per poter fare questo format. Quindi non è ancora adesso il momento giusto. Ah, poi qualcuno mi chiedeva se farò altri video come quello di The Love Witch. Assolutamente sì, però appunto è un tipo di contenuto che voglio fare bene. Cioè voglio scegliere i film giusti, preparare bene l'estetica, avere delle cose interessanti da dire. Quindi non è una cosa che in questo momento sto riuscendo a fare, ma veramente sono qua che aspetto soltanto di avere la vita a posto per dedicarmi i contenuti. Poi, puoi parlare della tua esperienza con il poliamore se l'hai avuta e in generale fare riflessioni sul tema. Anche qua sono arrivate più domande del previsto. Forse anche perché ho fatto qualche accenno qua e là nei video. Però adesso devo andare a lavarmi le mani perché sennò non riesco a pensare a nient'altro per tutto il video. Odio la sensazione dell'appiccicosiccio delle creme. Intanto guardate che shine, wow. Spero di non luccicare troppo e spaccare i vostri schermi. Bene, vado a sciacquare. Ho bisogno di un aiuto per questa domanda. Non so da quanto mi seguite o quanto appassionatamente, non so quali contenuti miei avete visto, però è sicuramente un argomento che nella mia vita ritorna da tanti anni. È un'opzione che io ho considerato più volte nella mia esistenza perché sono una persona che ha cotte tutto il tempo e da sempre, da quando sono nata. Sono uscita e ho cominciato ad avere cotte. E quindi ovviamente una persona alla ricerca di spiegazioni incappa inevitabilmente in questa possibilità. Ho pensato di essere poliamorosa perché mi sembrava la via migliore per assecondare questa mia natura, quella che pensavo fosse la mia natura. In realtà andando avanti con le mie esplorazioni che sono tuttora in corso mi rendo conto che non sono poliamorosa, non sono fatta per essere poliamorosa e il fatto che io abbia tutte queste cotte, questa grande tendenza a flirtare, a volere cose con le persone e ad essere ossessionata con le persone non ha niente a che vedere con l'amore, ma ha tanto a vedere con la dopamina e la droga. Ho già fatto dei contenuti in merito, sicuramente ne riparleremo perché è un argomento che è super centrale nella mia vita, me l'ha devastata in più momenti, tra cui qualche mese fa. No, in realtà non è proprio stato direttamente questo, però insomma ha fatto parte. E diciamo che è un concetto che ammiro, nel senso che a livello ideale mi piace l'idea che una persona abbia la libertà di esplorare tutte le relazioni della propria vita nella maniera che più desidera e senza limiti imposti dalla società. Però mi rendo conto che in realtà è più complesso di così, cioè spesso si parla del poliamore come se fosse la cosa giusta, la cosa evoluta, la cosa che le persone che sono davvero emotivamente e spiritualmente evolute vanno in quella direzione. E quindi forse mi sentivo anche un po' in obbligo di doverci andare, ma appunto io penso che sia paragonabile alla monogamia, nel senso che ha tutta una serie di vantaggi e tutta una serie di svantaggi. Io ho una delle mie più carissime amiche che è Poli, è attualmente all'interno di una molecola, nel senso che sta con una persona, che sta con altre persone, lei stessa ha altre relazioni e confrontandomi spesso con lei, lei secondo me è proprio fatta per essere poliamorosa, però vedo che comunque ci sono delle componenti del poliamore che la fanno soffrire, come il fatto che se tu stai con qualcuno che sta con delle altre persone, ovviamente il tempo che ti è dedicato è minore che se quella persona ha soltanto te. E quindi io so di volere una relazione molto assorbente, cioè mi piace dedicarmi completamente a una persona e che quella persona sia completamente dedicata a me, mi piace unire completamente le nostre vite e quindi è un tipo di rinuncia che non sono pronta a fare. Quindi anche semplicemente dal punto di vista organizzativo, non voglio pensare che quest'anno devo passare il Natale da sola perché la mia persona deve già stare con la sua ragazza numero due e la ragazza numero tre. Ovviamente per molte persone questa cosa funziona, dà anche diritto a più libertà, ovviamente tu hai altre persone con cui puoi passare il tempo in quei momenti, però proprio per la mia visione dell'amore, delle relazioni, mi sono resa conto che non fa per me e che quella che io pensavo fosse la mia natura in realtà non è così semplice, ma appunto ne riparleremo perché qua ci si può fare, cioè non un video, altri dieci video a riguardo. Cioè Shanti, come hai fatto a capire che psicologia non era la tua strada? Come si capisce cosa fare? Ma soprattutto, come si passa da una carriera canonica a una creativa? Io non direi che la psicologia ho capito che non è la mia strada, in realtà è una possibilità che io tengo ancora lì sul piatto e anzi, cioè credo che la scelta di vita che ho fatto, cioè fare la creator, qualcuno mi chiedeva sì, è il mio lavoro, campo di questo, mi dà la possibilità di esplorare tutti i miei interessi che è meraviglioso e la psicologia e la crescita personale sono tra i miei interessi maggiori, quindi ho proprio un modo di tuffarmici a fondo e la fortuna di avere tante persone tra di voi che sono interessate a questo argomento. Quindi ecco, non è una cosa che io in realtà ho escluso dalla mia vita. Non faccio terapia alle persone, questo è vero. Non so se avrei la pazienza, forse sì, non lo so, trovo ammirevole, secondo me richiede molto più di quanto uno crede. Spesso si pensa, ah vabbè ma lo psicologo lo paghi che sta soltanto lì un'ora ad ascoltarti, no, guarda, ascoltare veramente una persona è difficile e quindi non lo escludo, dovrei finire gli studi per poter fare la psicologa, però non è una cosa che escludo a prescindere. Detto questo, è difficile risponderti su che cosa, cioè come si capisce che cosa è giusto fare. Io, mi vengo a dire, segui la tua pancia, però è una risposta che non è proprio chiarissima. Io mi sono fatta guidare molto da cos'è che continuava a richiamare la mia attenzione, di quali persone ero invidiosa, su cosa fantasticavo e mi sono resa conto che comunque ero sempre richiamata dal mondo della recitazione e probabilmente se non facessi la creator sarei anche invidiosa delle persone che fanno l'influencer. Mi ritengo fortunatissima di essere riuscita a farlo diventare un lavoro e non è stata una scelta all'inizio però, quindi tu mi chiedi come fare a passare da un lavoro normale a un lavoro creativo. È stato, cioè, anni e anni in the making, cioè, io studiavo, lavoravo e nel mente creavo contenuti, che non è stato un ma lo tutto e inizio da zero e... Quindi secondo me anche vederlo come un cambiamento super radicale da un giorno all'altro può essere più spaventoso del dovuto. Uno può cominciare appunto a fare una cosa in piccolo e poi vedere se quel semino cresce e che cosa diventa. Uno dei tuoi piatti preferiti in questo periodo in generale? Oh mio Dio! Allora, ho un problema. Mi è capitato un paio di volte di andare in Francia a lavorare con un fotografo, ve ne avevo anche parlato. E sua mamma, a colazione, mi preparava queste tipo uova strapazzate con la feta e la neto che erano il mio cibo preferito della vita. E soltanto ultimamente ho deciso di provare a rifarle io in casa. E vengono buone, non come quella di quella signora purtroppo, però vengono buone. Però non voglio mangiare così tante uova perché non fa bene e non è il massimo per gli animali. E poi le uova mi cringiano. È un alimento strano le uova. Non mi piace la puzza di uovo che poi è dappertutto. Hanno una consistenza imprevedibile. Sono strane le uova. C'è qualcosa che mi fa... Però al contempo quel piatto era buonissimo. E quindi voglio capire dove posso mettere la feta e la neto che ho scoperto essere tipo la mia erba preferita. Buonissimo! Penso che snobbassi la neto perché lo confondevo con... Com'è che si chiama? Li confondo sempre. Anice! L'anice è il male. E quindi li confondevo sempre e quindi non mi sono mai resa conto di cosa mi stavo perdendo. Quindi ditemi dove posso mettere la neto per sentire il gusto in modo che venga esaltato e non mangiare più uova. Perché mi cringiano? Questa è la mia fisso del momento. L'avere vissuto sola fino ad ora 30 anni mi ha reso difficile lasciare entrare qualcuno nell'intimità. Eh, lo capisco in realtà. Credo che quando ci creiamo uno spazio nostro, sicuro tutte le nostre abitudini tutte le nostre cose non è facile avere qualcuno che si inserisca all'interno di questo spazio di questa dimensione che ci siamo creati. Non penso però che sia necessariamente negativo nel senso che qualcuno per riuscire a entrare in questo tempio che hai creato deve essere all'altezza deve essere meglio di quello che tu hai creato e questo secondo me crea uno standard sano. Ovviamente entro i limiti del possibile devi essere aperta a sperimentare e provare però non vederla soltanto come una cosa brutta non vederla come una cosa che deve succedere dall'oggi al domani ribadisco le cose si possono fare con calma uno spazzolino alla volta già soltanto andare in vacanza insieme può far sperimentare quel tipo di vicinanza e vedere i vantaggi del vivere con qualcuno e poi non è neanche obbligatorio io ho conosciuto dei signori che gestivano il negozio di bijoux dove lavoravo a Lasanna avevano due case separate però stavano insieme e quindi anche questa è una possibilità dipende dal tipo di vita che ti immagini secondo me anche quello aiuta cioè immaginarti che cosa sogni per il futuro e come ti puoi avvicinare a quell'immagine cioè io so che per quanto io adori stare da sola mi piace avere i miei spazi mi piace poter decorare come voglio e fare le cose quando voglio so che mi piace vivere con la mia persona alla fine con il mio ex era bello vivere insieme ci sono tanti vantaggi del vivere insieme ci si smezza le spese quando è possibile le pulizie le cose da fare cucinare oh svuotare la lavastoviglia è una noia però è peggio non averla quindi sì spero di aver chiesto degli spunti di riflessione cosa apprezzo dell'essere singolo o comunque non in una relazione seria credo nel mio caso in particolare il fatto che io riesca a concentrarmi così bene su di me perché quando sto con qualcuno c'è qualcuno nella mia vita o nella mia testa io sono molto ossessiva e quindi tutto il focus va sull'altra persona anche la semplice presenza in casa di qualcun altro ne avevo parlato in un video sulla convivenza è come se pensassi perennemente ai bisogni dell'altro e questo mi impedisce di pensare come si deve a cosa ho bisogno io e quindi mi sto godendo molto questa fase del di cosa ho bisogno in questo momento che cosa posso fare in questo momento per farmi sentire bene e poi sì la libertà totale di fare quello che voglio quando voglio mi sento molto più all'ascolto di me e questo è me lo godo finché dura me lo godo self care totale e poi diciamocelo cioè sono anche preoccupazioni in meno cioè soprattutto tutta la parte del dating del frequentarsi del oh cioè è esaltante da un lato ma è così faticoso o almeno per come lo avevo io che è in maniera molto intensa e ossessiva appunto no troppo troppo fatica e poi no le persone wow hai ancora in mente di tornare a parlare di sessualità come dicevi sì ti prego fallo stabuizzala assolutamente sì questo è uno degli argomenti che vorrei riprendere vi avevo detto che stavo seguendo questo corso sul piacere che ho messo in pausa ma devo riprendere voglio parlarvi di quello voglio parlarvi di piacere in generale voglio parlarvi di sex toys ho tutta una serie di idee che vorrei mettere in atto però anche qua il mio cervello è splittato in 300 direzioni diverse e uff ce la faremo giuro è qui sulla mia fronte scintillante rido che qualcuno diceva fai vedere di più i tuoi gatti volentieri io ho sempre paura di annoiare a metterli sempre nelle stories qualcuno dice mi piaci molto meglio da sola senza pseudo condizionamenti involontari da sola esce di più la tua personalità e puoi fare tutto quello che vuoi messaggi come questi da un lato mi fanno piacere dall'altro mi fanno un po' strano perché capisco che cosa intendete varie persone mi hanno detto che mi vedono più più viva più presente perché sono come dicevo prima molto più presente a me stessa riesco ad ascoltare meglio di cosa ho bisogno che cosa voglio fare ed è più facile farlo ovviamente quando devi tener conto soltanto dei tuoi bisogni dei tuoi to do's e non quelli di un'altra persona però appunto allo stesso tempo mi sembra un po' tipo sputare sulla mia relazione passata e questo non mi fa sentire molto bene mi fa anche un po' paura l'idea tipo di in futuro avere un'altra relazione e che le persone potrebbero riavere questa sensazione che se sono in relazione poi non la mia personalità non esce allo stesso modo poi certo dipende chi hai di fianco e come quella persona fa venire fuori quello che hai dentro però non lo so non lo so ho dei weird vibes a riguardo tu sei super impegnata come fai a gestire tutte le cose da sbrigare non ti senti sopraffatta a volte poi sei sempre super attiva come ci riesci io sono perennemente sopraffatta è una cosa orribile no io sono overwhelmed 24 7 ed è pessimo e instagram lo sa e quindi ultimamente mi sta facendo uscire un sacco di contenuti su sistemi nervosi perennemente stressati e livelli ormonali sfalsati per via dello stress continuo insomma leggevo che soprattutto noi donne abbiamo questo stato di ipervigilanza costante dove siamo sempre troppo cioè sovraccariche anche a livello proprio fisico e quindi è una cosa che non cioè non è positivo ne parlavo il fatto che io quest'anno in realtà vorrei imparare a rallentare a fare meno cose ma le cose giuste non come dicevamo prima cioè le due ore che passo a scrollare le potrei passare a fare le mie miniature o leggere un libro o accarezzare i miei gatti fare un riposino tutte cose che tendenzialmente magari escludiamo per senso di colpa e di mancata produttività e quindi è una cosa che sto cercando di capire come fare so che tu mi hai fatto in realtà la domanda opposta cioè come fare di più io ti dico no bisogna fare meno ma meglio ma io faccio un sacco di liste di programmi di cose so che alla fine della giornata mi sento meglio se ho fatto tutto quello che volevo fare sicuramente possiamo parlare di tecniche di produttività però è un discorso che non è completo se non si parla di anche l'importanza del riposo non voglio contribuire a un mondo più produttivo voglio contribuire a un mondo più sereno ha senso? credo che varie persone su internet si sono rese conto di quanto abbiamo contribuito a quest'idea della super donna che fa tutto e che è super motivata e super produttiva e quanto questo sia malsano in realtà scusa non ho veramente risposto alla tua domanda però sì sappi che è normale non siamo fatti per fare cose tutto il tempo e la realtà di quello che c'è dietro la mia faccia sorridente che riesce a fare le cose è che in realtà vorrei farne cento altre e sono perennemente frustrata e non credete a tutto quello che vedete per te la gelosia dipende soltanto dall'insicurezza personale di chi la prova? come gestirla? allora potremmo fare un video intero sulla gelosia no assolutamente non dipende soltanto dalla persona che la prova anche se c'è una componente di responsabilità personale che spesso viene ignorata però sicuramente il partner la persona che ci provoca questa gelosia può avere dei comportamenti che appunto la provocano quindi ricordiamoci che tutto si fa in due o in più e quindi secondo me tutte le parti devono guardarsi dentro e prendersi una parte di responsabilità e vedere in che modo il proprio comportamento influenza l'altro perché spesso c'è un gioco di ping pong dove io sono insicura quindi tutti allontani e quindi io mi agito ancora di più e tutti allontani ancora di più e si va avanti ci si allontana in questo modo e crescono le ansie quindi bisogna fermare la pallina spesso questo avviene appunto prendendosi la responsabilità e dicendo ad alta voce guarda hai ragione devo trovare il modo di calmarmi anche da sola perché mi rendo conto che in realtà non stai facendo niente di male però ci rimango male quando fai x, y e z o una persona può dire guarda hai ragione non mi ero resa conto di farti star male facendo questa cosa per me non è indispensabile posso smettere di farla cioè ci sono tutta una serie di conseguenze positive che ci possono essere se soltanto uno va oltre il difendersi perenne e dice sai cosa hai ragione il modo in cui mi comporto ti impatta posso gestirlo meglio ma questo tutte le parti non soltanto una hai più rifatto il filler come ti sei trovata sul lungo termine per chi non lo sapesse io qualche anno fa ho fatto il filler alle labbra è andato via tutto credo è rimasto un pochino alla forma nonostante lo shock iniziale a lungo termine in realtà mi sono trovata bene non ho avuto particolari difficoltà e anzi appunto il fatto che mi abbia lasciato un po' una forma diversa rispetto a prima mi aiuta adesso a truccarmi a capire dove mettere le cose e ad avere comunque un effetto più carino rispetto a prima per il mio gusto personale lo rifarei non lo so perché ha fatto male e è comunque impressionante vedersi diversi però mai dire mai nella vita oltre alla content creator hai mai fatto altri lavori quale ti è piaciuto di più oddio io in realtà ho sempre lavorato ho cominciato a 16 anni vendendo gelati che lavori ho fatto allora beh sì gelati vari supermercati il negozio di bijou quello era molto carino supermercati dipende perché mi piaceva stare in cassa c'era una strana soddisfazione nello stare in cassa però riempire gli scaffali no e mi faceva mal di schiena e la zona frigo è molto fredda e quindi ok la cassa al resto meno e il bijou era bello il bijou era bello però anche lì molto più impegnativo di quello che uno potrebbe pensare ho lavorato un mese in ospedale quello era bellissimo da aspirante dottoressa per me era bellissimo stare immersa tra sangue e siringhe tutto il giorno no però sì in un'altra vita sicuramente sono una che lavora in ospedale e quest'altro ho fatto ho fatto qualche lavoro come modella quello è divertente vabbè la recitazione non mi hanno pagata spesso per recitare ma quando è successo è stata ovviamente la cosa più bella di sempre sicuramente mi sto dimenticando di qualcosa come hai fatto ad abituare i gatti ad essere spazzolati il mio si agita tantissimo allora la mia prima serafine mini avevamo cominciato a spazzolarla che era piccolissima e quindi forse per quello non ha mai fatto storie anzi le piaceva cioè tiri fuori la spazzola lei comincia a farle fusa e poi lei non è così tanto pelosa quindi non ha praticamente mai nodi non è un'esperienza negativa credo ai suoi occhi mentre Grimm Pino lui è a tre volte i peli di lei e io non mi ero resa conto di quanto fosse importante spazzolare i gatti a pelo lungo lezione imparata e lui ha cominciato ad avere dei rasta giganti veramente delle cose impressionanti che io li tagliavo via con la forbice cioè veramente una sofferenza per tutti e due e quando poi ho iniziato a informarmi appunto ho capito di quanto fosse importante tenerli spazzolati l'ho portato dalla toilettatrice per togliere tutto quello schifo che si era accumulato poverino aveva la pelle tutta rossa no veramente fate attenzione da quel momento ho anche preso gli arnesi giusti vi linko qua sotto il kit che ho preso che è fantastico e all'inizio lo odiava lo odiava tuttora lo pettino quando dorme e ha imparato ed è diventato bravissimo cioè lui dorme lo pettino non si accorge particolarmente se si sveglia comincia magari un po' a lagnarsi però a quel punto sono già riuscita a fare un po' e gli do sempre un premietto secondo me anche questo ha aiutato a renderla un'esperienza positiva per lui cioè le volte che si fa a pettinare per un po' poi gli do un premietto e penso che anche lui si senta molto più leggero che non ha più tutto che gli tira e quindi credo che si renda conto del vantaggio di farsi pettinare però sì prova a farlo mentre dormono e crea un'associazione positiva se potessi tornare indietro nel tempo modificheresti scelte o errori del tuo passato questa è sempre una domanda difficile perché da un lato ti direi sì però se penso che perderei la consapevolezza che ho adesso facendo delle scelte diverse mi chiedo se vale comunque la pena dico sempre che tornando indietro comincerei a recitare subito dopo il liceo però mi chiedo senza tutti quegli anni così duri dell'università avrei la stessa sì consapevolezza sensibilità che comunque mi aiutano ad essere un'attrice migliore oggi e quindi dico boh forse gli avrei avrei assorbito queste qualità in un'altra maniera e chi lo sa un fantastico libro sull'argomento è la libreria di mezzanotte si chiama mi sembra proprio su questa cosa del se avessi fatto scelte diverse chissà come sarebbe la mia vita sarebbe migliore il libro risponde a questa domanda l'ho trovato molto rassicurante anche per quanto riguarda la mia ultima relazione a volte mi capita di pensare cabolo se solo avessi fatto diversamente però come dicevo nel video sui cuori spezzati noi agiamo sul momento con le migliori intenzioni e con i migliori strumenti che abbiamo lì per lì e quindi non siamo non saremmo stati in grado di fare delle scelte diverse e ribadisco quando succedono le cose brutte si capiscono le lezioni più importanti quindi non penso anche adesso che io avrei tutta la consapevolezza su che cosa voglio in una relazione se non fosse successo quello che è successo e quindi I don't know mi viene da dire di no le cose vanno come devono andare e vanno in modo che capiamo determinate cose sei ancora vegana o vegetariana? sì non so se l'ho mai detto pubblicamente mi capita qualche rara volta di mangiare del salmone è una cosa che ho iniziato a fare in Giappone perché volevo provare il sushi in Giappone e poi mi è rimasta questa cosa di se sono in un posto che non è un olio can eat dove c'è del pesce buono mi concetto di mangiare del salmone il salmone è l'unico pesce che mi piace che sopporto a livello di valori sono assolutamente vegana per la mia salute per il pianeta per gli animali 100% nel mio mondo ideale sarei vegana però mi sono resa conto di come hanno coinciso il mio essere vegana e il mio disturbo alimentare di 10 anni fa non che io incolpi l'essere vegana però ha impattato io sono una persona che tende ad essere molto inflessibile mi do delle rigole molto strette le voglio seguire e ho imparato a sciogliermi negli anni che non tutto è nero bianco e che il grigio è molto importante e quindi ho i miei valori seguo nella maggior parte del tempo questi valori ma se un giorno ho voglia di mangiarmi del sushi al salmone me lo concedo perché non concedermi delle cose che voglio mi fa creare un attrito tale al mio interno che poi mi fa sbarellare troppo e quindi preferisco essere elastica e mangiare quello che ho voglia di mangiare in quel momento piuttosto che impazzire e poi fare peggio quindi questo si traduce in realtà appunto in quel paio di volte all'anno che mangio il salmone o questo mio tentativo di fare le uova con la feta e la neto mettere l'uovo nel ramen mangiare la pizza cose di questo tipo non sono comunque una grandissima consumatrice di prodotti animali però sì questo è il compromesso che ho trovato io per il mio benessere mentale più che altro hai mai pensato di trasferirti in Giappone allora sicuramente l'idea è venuta anche quando stavo con Alberto avevamo parlato della possibilità di andare lì per magari 3-4 mesi non è una cosa totalmente da escludere però è un trasferimento definitivo non penso perché per quanto io adoro il Giappone è la mia seconda casa mi sento molto bene lì un conto è vivere la turista un conto è vivere la persona che ci abita innanzitutto so che appunto i giapponesi non sono proprio pronti a integrarti nella società così come se niente fosse ma soprattutto sono una persona che è molto legata alla famiglia ai propri amici avere tutti quanti così lontani mi farebbe soffrire molto penso che sia un tipo di vita molto più idealizzato nella testa che effettivamente una realtà che mi renderebbe felice nella realtà perché spesso ci facciamo i film di che cosa ci renderebbe felice senza far caso a cosa effettivamente ci rende felice nella realtà e questo è un errore che ho già fatto in passato e non voglio ripetere l'ho fatto in un contesto di relazione cioè di pensare la persona ideale con cui vorrei stare è fatta così 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 e quindi se tu non corrispondi a quell'ideale mi manca un pezzo in realtà no perché spesso ci rendono felici cose che non sono quelle che ci aspettavamo e penso che sia una cosa simile detto questo sono felicissima di andare in Giappone più volte possibili ci vado tra tre settimane e piccolo spoiler potrebbe esserci un altro vero in Giappone tra non molto tempo tenete d'occhio i miei social vi farò presto sapere quindi sì questo è un compromesso che sono disposta a fare e questo sarebbe anche complicato con i gatti se volessi fare tipo tre mesi là dovrei capire come dovrei trovare chi si occupa di loro insomma chi lo sa chi lo sa per ora mi va bene così ci sono tanti posti in realtà nel mondo dove potenzialmente mi piacerebbe vivere cioè tipo ho appena visto l'annuncio di Darling Daisy che si trasferisce nella campagna inglese ho pensato no anch'io voglio però beh è un discorso simile cioè sarei lì da sola con nessuno che conosco e tutte le mie persone lontane e quindi sì ok sarebbe bellissimo cioè ti svegli ed è stupendo e giri per il tuo paesino ed è stupendo però sei lì da solo amo la solitudine però happiness is only real when it's shared e credo molto in questa cosa che è difficile godersi completamente le cose da soli non lo so forse se ho un partner che veramente vuol fare questo salto con me l'Inghilterra potrebbe essere un compromesso ancora ok ma poi mi immagino cioè se ho dei figli non avere i nonni vicini cioè non lo so mi mancherebbe un senso di comunità poi vabbè te la puoi creare lì dove sei però non è la stessa cosa I don't know si vede che sono confusa come stai lavorando la tua carriera di attrice non lo sto facendo sono troppo incasinata il trasloco riprendere a fare i contenuti non sto riuscendo a pensarci quello che sto cercando di fare è raccogliere tutti i materiali delle cose che ho fatto ultimamente per mettere in piedi il nuovo showreel e propormi alle agenzie sempre qua si torna da dieci anni a questa parte ma questo è l'anno in cui lo farò veramente ricordatevi che l'ho detto potete usarlo contro di me a che correnti di design ti stai ispirando per l'appartamento io vorrei fare soprattutto la sala vorrei una cosa un po' tipo art deco liberty vorrei tantissimo dato che non posso avere davvero dei vetri mosaicati come dice in italiano stained glass vetro colorato lo traduce vabbè insomma io vorrei avere appunto queste porte e finestre come se fossero uscite da una chiesa o da appunto una lampada art deco ho provato a guardare un po' di stickers che si possono mettere però ho l'impressione che siano tutti super pacco quindi se conoscete qualcuno che fa appunto degli stickers per finestre così in quella direzione lì vi prego fatemi sapere perché sono a tanto così da farmeli da sola solo che avete in mente quando non so se anche voi da piccoli li facevate c'erano dei colori apposta che facevi il disegno alcuni erano da mettere in forno e poi li potevi attaccare ai vetri faceva un po' questo effetto qua però appunto rischia di sembrare secondo me un po' troppo made mentre le cose art deco sono molto precise quindi non lo so sono confusa e combattuta e questa è un'altra cosa a cui sto pensando qualcuno mi chiede come va con i diorami ci farai vedere qualcosa prima o poi intendi le miniature oh sono infermo purtroppo c'è troppo casino non riesco a rilassarmi a pensare di tirar fuori tutte le mie cosine e godermelo veramente mi manca voglio continuare quella stanzina che è ancora lì che mi aspetta ci farai mai sapere della foto in Giappone guarda mi hai fatto pure sputare ecco questo è un altro di quei momenti dove serve l'aiuto dei brownies che peccato non sono alteranti quanto vorrei purtroppo come ho già detto centomila volte e sarete stufi di sentirmelo dire nelle storie dove sono incluse altre persone io non posso raccontare la rava e la fava la rava e la fava poi diciamo che quella foto la famosa foto per chi ha seguito tutto la baradana di un anno fa tra l'altro madonna quello sì che è stato un periodo faticoso della mia esistenza sono così felice che sia passato diciamo che il contenuto di quella foto è collegato a il deterioramento della mia ultima relazione quindi non è neanche proprio un argomento che mi rende proprio felicissima ma vabbè dai penso che chi mi segue con grande attenzione avrà messo insieme i pezzi secondo me a me piace molto lasciare le bricioline qua e là cosa ne pensi di quelli che dicono che la vita finisce dopo i 20's no zero i miei 20 anni sono stati una pena soprattutto dai 20 ai 25 mi viene da dire ma no i 30 anni sono molto meglio lo so che lo dicono tutti però veramente non c'è paragone ti conosci molto meglio quindi ti fai un sacco di pari in meno bene o male appunto ti conosci sai che cosa vuoi fare più o meno hai più chiarezza in teoria più soldi più possibilità e sei più in pace no 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 cioè zero la vita comincia dopo i 20's mi chiedono vorresti avere dei figli anche senza un partner e perché vorresti avere dei figli senza un partner penso che si riferisca al discorso che ho fatto in uno dei miei ultimi video su questa possibilità che sto considerando ma fino a un certo punto cioè mi rendo conto che non corrisponde all'immagine di vita che io vorrei in realtà cioè mi piacerebbe avere dei figli con qualcuno perché io non è che voglio solo i figli io voglio una famiglia e sono due concetti diversi certo è una famiglia anche se c'è soltanto un adulto e i bambini ma non è l'immagine che vorrei io almeno a livello ideale e quindi non lo so per ora preferisco aspettare ancora un attimo sto pensando potenzialmente alla possibilità di congelare gli ovuli però è una cosa che appunto mi convince fino a un certo punto io spero di trovare domani qualcuno di fantastico meraviglioso che mi vuole mettere subito in cinta e questo sarebbe molto più pratico però ecco visto che questo non è molto probabile comunque la mia ginecologa mi ha rassicurata sul fatto che ho più tempo di quanto penso di averne cerco di vivermela con relativa tranquillità qualcosa del genere però mai dire mai appunto come sconfiggi la solitudine del content creator hai mai pensato di assumere dipendenti o preferisci l'autonomia artistica non mi turba così tanto la solitudine di questo lavoro che è sicuramente un lavoro molto solitario anche se erano belli i tempi qualcuno chiedeva della casta erano belli i tempi della casta dove ci si trovava si facevano contenuti insieme è sicuramente qualcosa a cui ho pensato per quest'anno di riprendere a fare contenuti con altre persone perché secondo me è arricchente ed è divertente far vedere al pubblico che versione di te esce con un'altra persona questa forse boh una roba un po' magari egocentrica mia però trovo che sia interessante ti fa vedere le persone da un'altra angolazione ed è divertente e poi appunto trovo che sia molto arricchente portare altre storie altre competenze altre perché sennò sono sempre solo io that's boring non lo so appunto secondo me esce un altro lato esce è una cosa che mi piace in realtà fare con le persone giuste perché ho fatto anche in passato collaborazioni forse un po' forzato e comunque con persone che non mi sono particolarmente simpatiche ed è un'altra cosa ma secondo me si percepisce anche da fuori hai pensato di riprendere dei topolini ma sai che in realtà sì la gabbia l'ho tenuta ho tutto quanto in cantina il topo rimane il mio animale del cuore però ho paura che non riuscirei a dedicare loro le attenzioni che vorrei avendo due gatti me ne sono resa conto è proprio cambiato il mio rapporto con i topi che avevo dal momento che sono arrivati la mini alpino ci tengo a colare bene gli animali anche con i miei gatti gli dedico molto tempo sono i miei figli e quindi prefisco averne meno ma trattarli davvero bene non mi ricordo se qualcuno me l'aveva chiesto se volevo semplicemente dirlo ma avevo anche considerato la possibilità di prendere un terzo gatto vorrei tanto un gatto rosso perché secondo me starebbe bene con gli altri due lo so fisse mie però anche qua ho un po' paura a rompere l'equilibrio non che loro due siano perfettamente equilibrati perché in questi ultimi giorni stanno facendo un sacco la lotta però appunto un figlio in più sono ansia in più io sono una mamma perennemente ansiosa per la loro salute ogni sintomo mi angoscia quindi i topi mi hanno spezzato molte volte il cuore per questo motivo perché sono molto delicati e quindi anche perderli così spesso arriverà sicuramente il giorno in cui avrò di nuovo dei topi magari quando avrò dei figli sarà carino avere dei topini però non per ora che standard hai per un futuro partner a volte ho la sensazione di pretendere troppo per capire se pretendi troppo dovresti dirmi che cosa pretendi non do per scontato che tu abbia ragione perché effettivamente secondo me si parla molto di standard ho l'impressione negli ultimi anni e è giusto è importante però è vero come dicevo prima che a volte ci fissiamo su un'idea di la persona perfetta deve avere questo 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 e non lasciamo che la vita capiti e che ci possiamo sorprendere di che cosa ci fa stare bene sul momento quindi secondo me è importante mettere dei paletti che siano paletti tipo valoriali tipo voglio una persona che ha i miei stessi valori crede nelle mie stesse cose ha la mia stessa visione delle relazioni ha la mia stessa visione del futuro queste cose ok però per il resto secondo me bisogna imparare un certo grado di flessibilità e di apertura mentale sono la prima che fa fatica ma quindi aspetta cos'è che mi hai chiesto quindi sì beh allora sicuramente quando ricomincerò a uscire con persone il mio scopo non sarebbe quello di avere un'avventura fine a se stessa vorrei qualcuno con cui costruire una vita quindi sicuramente se prima uscivo anche con persone molto più giovani è qualcosa che tendenzialmente non sono più pronta a fare o molto più grandi deve essere sicuramente qualcuno che vuole avere figli e che è entusiasta all'idea qualcuno che non si sente intimorito dal lavoro che faccio ho fatto da qualche parte degli elenchi di caratteristiche sicuramente qualcuno che non è un super pazzo estroverso che è in discoteca 7 giorni su 7 tendenzialmente una persona che sia bilanciata tra l'essere casalinga e avventurosa ma più in termini di domani partiamo e saliamo sul primo aereo per un posto che non abbiamo mai visto ecco quel tipo di avventuroso qualcuno che abbia valuto di condividere una vita sì e che sia tendenzialmente positivo e ottimista di supporto sensibile assolutamente grande intelligenza emotiva quello per me è molto importante e intelligente intelligente in generale perché se la persona davanti a me non è acuta non mi sento stimolata vabbè se volete facciamo un video dedicato a questo e vi tiro fuori le mie liste il posto più bello che hai visitato e dove vorresti andare il Giappone il Giappone sono veramente terribile ci sono tanti posti al mondo che vorrei vedere ma alla fine finisco sempre in Giappone si torna sempre dove si è stati bene no in realtà ci sono altri posti che vorrei vedere in Corea vorrei andare ultimamente sono tutti in Corea e poi vabbè lo dico da una vita ma vorrei andare in India e vorrei andare in Grecia e chissà non vorrei andarci da sola è quello il punto beh ragazzi io direi che questo video sarà durato veramente tantissimo diamo una cegelata a questi capelli vediamo cosa succede tra l'altro non so se si vede o se ve ne siete accorti si incola tutto alla crema oddio questa è la cosa che mi dà più fastidio sono andata a tagliare i capelli lo so non si direbbe principalmente ho fatto dei ciuffi che adesso si vedono relativamente poco anche qua forse avrei dovuto chiederli più corti mi avevano fatto dei capelli bellissimi quando ero stata dal parrucchiere e l'idea era provare a rifarli ma non è la stessa cosa sono così belli quelli che mi hanno fatto loro e poi l'idea è tipo raccogliere i capelli dietro così e avere i ciuffi davanti perché voglio imparare a fare delle pettinature carine e romantiche non è male però secondo me i ciuffi sono troppo lunghi li taglierò da sola mi sento wild ma non lo farò adesso perché sono troppo unita vabbè dai non sono usciti così male adesso magari sappiate che annuncio ufficiale voglio provare seriamente il curly hair method perché in realtà i miei capelli sono mossi ed è giunto il momento di scoprire la vera natura dei miei capelli e trattarla come si deve bene questo è quanto ragazzi sono in ritardo devo assolutamente andare devo finire i miei brownies non sono un amato del dolce ma giusto che potrei passare il resto della mia vita mangiando soltanto brownies vi ricordo di dare un occhietto al sito di coro ve lo lascio qua vi ringrazio tanto di essere stata in mia compagnia grazie di aver voglia di ascoltare tutte le mie tiritere è una cosa che non do mai per scontata io ho passato la vita intera a pensare di essere noiosa e pensare che c'è qualcuno che voglia di sedersi davanti a un mio video così lungo e guardarlo tutto e ascoltare quello che ho da dire per me è tuttora fuori di testa grazie cioè sono veramente sempre basita ci vediamo presto e aspetto le vostre storie riguardo tutti questi mille argomenti nei commenti vi leggo sempre con grande piacere vi auguro una magica magica giornata e ci vediamo alla prossima ciao ciao